Il contagio in regione torna ai picchi della seconda metà di marzo. Sono 782 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Friuli, Venezia e Giulia, grazie a 24.819 tamponi e test rapidi. Il tasso di positività cresce così a 3,15%. Aumentano ancora i ricoveri. In terapia intensiva sono accolti 26 pazienti, uno più di ieri, mentre nei reparti ordinari sono 232, tre in più. Il computo delle vittime sale a quota 3948, con 5 nuovi decessi. Si tratta di due uomini di Trieste, di 81 e 73 anni, di una donna di 101 anni, di Pasiano di Pordenone, e di un 75enne di Tavagnacco, tutti deceduti in ospedale, e di un 74enne di Muggia, spentosi in una residenza per anziani. A fronte dell'aumento continuo di casi, la regione preme sull'acceleratore sul fronte della campagna vaccinale. Da oggi, i cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, ovvero over 40, fragili, operatori sanitari, operatori ospiti delle case di riposo e immunizzati con il Johnson, possono prenotare richiamo, purché siano trascorse almeno 150 giorni dalle precedenti dosi. Un ampliamento reso possibile dopo la circolare di AIFA, con l'aggiornamento delle indicazioni sull'intervallo temporale tra il ciclo primario e la dose booster, ridotto a 5 mesi dei 6 inizialmente previsti. Sabato 27, dalle 14.30 alle 16.30, è prevista peraltro una seduta speciale di vaccinazione per le donne in gravidanza a Santa Maria della Misericordia di Udine. Le future mamme che riceveranno il Pfizer potranno contare sulla presenza di specialisti ginecologi e ostetriche. Secondo la circolare del Ministero della Salute, il vaccino è raccomandato in gravidanza nel secondo e terzo trimestre, oltre che durante l'allattamento.